Fugge, fugge, fugge! Il maschio alfa fugge inoredito alla vista delle malgascione. Non si spiega, devono essere malgascione effettivamente molto brutta. Ecco, vedete, le malgascione, lì, che lo attendono, lo attendono, due malgascione. Il maschio alfa appena le ha viste, si è girato e se ne è andato, se ne è andato, non ne vuole sapere. Si nasconde il maschio alfa perché il maschio alfa vuole le malgascette, non se ne fa niente di queste malgascione bavose che sono lì, vedete, che lo attendono fiduciose. Ma il maschio alfa, sinceramente, essendo alfa, cosa se ne fa di queste malgascione bavose, vedete, che lo attendono, lo attendono fiduciose, le malgascione aspettano. Ma oramai il maschio alfa non arriverà più, lui sarà già alla caccia di malgascette fresche, malgascette interessanti. Nel malgascione oramai queste hanno finito l'ultimo tagliando, sono pronte per essere rottamate, non hanno più possibilità. Eppure hanno anche la speranza, vedete che attendono fiduciose, loro lì si aspettano, aspettano, si spostano. Sperano che questo maschio alfa possa un giorno tornare, possa un giorno rimanifestarsi, ma niente da fare, niente da fare. Il maschio alfa oramai è fuggito, è andato, vedete, vediamo, se andiamo alla ricerca un po' di questo maschio alfa, ma niente, oramai non si vede più. Il maschio alfa è completamente nascosto, ecco che c'è qualcosa che si avvicina, non sappiamo, ma le malgascione attendono, perché loro sono di bocca buona, insomma, questi malgascioni. Se non c'è il maschio alfa gli va bene anche un maschio beta, talvolta si accontentano anche dei maschi omega, dall'alfa all'omega, sicuramente l'alfa non va, non interessano queste malgascione, così. E vedete, le malgascioni si aggirano, speranzose, perché la speranza per le malgascioni, diciamo che è sempre l'ultima a morire, aspettano, aspettano, che possa arrivare qualcosa di buono, qualche maschio succulento, ma niente, niente. Anche questa volta per le malgascioni è andata male, non sono riuscite a trovare nulla di sostanzioso, nulla di buono, povere le malgascioni, povere le malgascioni. Anche questa volta fanno la fame, fanno la fame, anche questa volta niente da fare, è pazienza, pazienza.